Bene ragazzi, parliamo di Giuseppe Ungaretti. Qui vedete un'immagine del poeta giovanissimo al fronte della Prima Guerra Mondiale perché lui si era arrolato volontario nella Prima Guerra Mondiale ed era stato mandato sul fronte carsico. Allora, vediamo un pochino la vita di Ungaretti. Allora, Ungaretti nasce nel 1888 ad Alessandria d'Egitto e da genitori di origine lucchiese. Praticamente si trovavano ad Alessandria d'Egitto perché il padre lavorava nella costruzione del canale di Suez, mentre la madre aveva aperto un forno di pane. Purtroppo il padre durante i lavori del canale di Suez si ammara e morirà quando il piccolo Giuseppe ha solo due anni. Quindi diciamo che lo alleva la madre che continuerà a lavorare nel forno, tanto che riuscirà poi nel 1905 a mandarlo in una prestigiosa scuola svizzera, l'Escol Suisse Jacquot, dove Ungaretti si formerà, dove verrà a contatto con la letteratura, dove conoscerà un amico molto importante, Mohamed Shehab, un giovane arabo con cui Ungaretti stringe un'amicizia molto profonda. Erano coetanei, iniziano insieme a leggere i grandi della letteratura e si appassionano alla letteratura. Soprattutto Ungaretti amava in particolare Mallarmè e purtroppo Mohamed Shehab intorno al 1912 si suicida a Parigi. Detto questo, nel 1912 Ungaretti si trasferisce in Francia a Parigi e qui segue i corsi del Collège des Franches e della Sorbona e frequenta gli ambienti dell'avanguardia letteraria parigina. Tra l'altro entra in contatto e stringe amicizia con il poeta Apollinaire. Poi, due anni dopo, quando scoppia la prima guerra mondiale, quando poi l'Italia nel 1915 entrerà in guerra, si arruola come volontario. E sì, perché è un fervente patriota, è un fervente interventista ed è inviato a combattere sul fronte carsico. Finita la guerra, ritorna nuovamente a Parigi, dove l'anno successivo sposa Jeanne Dubois, dalla quale avrà tre figli, tra cui il piccolo Antonietto che gli morirà all'età di soli nove anni e la cui morte gli lascerà un dolore molto profondo, che poi troveremo nella sua raccolta il dolore. Nel 1921 Ungaretti si trasferisce a Roma e qui, dopo la marcia su Roma del 1922, Ungaretti aderisce al fascismo, tanto che sarà per qualche anno il corrispondente da Parigi del Popolo d'Italia, che sapete è il giornale diretto da Benito Mussolini. Nel 1936 Ungaretti si trasferisce in Brasile, dove ricopre la cattedra di letteratura italiana presso l'Università di San Paolo. Nel 1942 rientra in Italia e qui insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Roma, fino, diciamo, al pensionamento. Nel frattempo escono le sue raccolte che segneranno la sua vita, infatti, quando poi nella 69 raccoglie tutte le sue raccolte poetiche in un'unica raccolta, quest'unica raccolta la intitonerà Vita di un uomo, perché, cioè, significare che la poesia ha segnato la sua vita e che la sua vita, più che essere una vita mondana, è stata una vita interiore. L'anno dopo morirà nel 1970 a Milano, dove si era recato per una serie di esami clinici, per una serie di controlli medici. Questa è la vita di Ungaretti. Andiamo alla poesia di Ungaretti, alla poetica di Ungaretti. Allora, la prima raccolta poetica di Ungaretti è Il porto sepolto del 1916. Poesie, 32 liriche, che Ungaretti scrive al fronte. E che sono una specie di diario, anche perché ogni poesia reca la data, la data, diciamo, della scrittura, e anche il luogo dove Ungaretti la scrive. Questa prima raccolta verrà pubblicata, appunto, nel 1916 ad Udine, proprio per l'interessamento di un ufficiale, Ettore Serra, che amava la letteratura e che si interessa a far pubblicare questa prima raccolta di Ungaretti. Tra l'altro, questa raccolta, emblematicamente, inizia con una poesia in memoria dedicata all'amico morto suicida a Mohamed Sheab e si conclude con la poesia commiato dedicata, invece, all'amico vivo Ettore Serra, che, appunto, si è interessato alla pubblicazione di questa raccolta. Quindi, praticamente, queste due poesie, commiato, che, diciamo, apre la raccolta e, no, scusatemi, in memoria che apre la raccolta e commiato che chiude la raccolta, sono in un certo senso speculari. Ma c'è un'altra poesia che si trova quasi al centro della raccolta, che si intitola Porto Sepolto e che dà proprio il titolo alla raccolta e che è una poesia molto importante perché è una dichiarazione di poetica, come del resto anche commiato. Detto questo, in seguito, Ungaretti continuò a scrivere poesie e, nel 1919, uscì un'altra raccolta, Allegria di Naufragi, che poi, insieme col Porto Sepolto, costituirà la prima raccolta, diciamo, ufficiale, dal titolo L'Allegria, del 1931, che, ripeto, comprende il Porto Sepolto e Allegria di Naufragi, tutte e due le raccolte. Esce nel 1931 e poi, vabbè, e contiene, appunto, le poesie scritte dal 1914 al 1919 con una seconda edizione del 1942 con le poesie riviste, soprattutto dal punto di vista formale. Detto questo, delle altre raccolte ci occuperemo in seguito. Detto questo, andiamo alla poetica di Ungaretti, perché, appunto, la prima poesia che faremo è proprio il Porto Sepolto, che è una dichiarazione di poetica. Quindi dobbiamo anche capire in che cosa consiste la poetica di Ungaretti. Allora, si dice che Ungaretti è l'iniziatore dell'ermetismo. Hermetismo, perché? Perché è una corrente poetica che attribuisce, appunto, un valore essenziale, quasi ermetico, pregnante, alla parola. La quale parola, proprio nella sua essenzialità, deve esprimere, appunto, la verità, appunto, questi significati profondi e arcani. Infatti, proprio questa prima raccolta, l'allegria, contiene una forte sperimentazione formale e la distruzione del verso tradizionale, perché il verso è, in queste poesie di Ungaretti, è frammentato. Cioè, abbiamo il verso breve e il verso libero. Verso libero perché non c'è metrica, non c'è rima. Verso breve perché possiamo avere anche una sola parola che occupa lo spazio bianco della pagina poetica. Una sola parola che contiene, che esprime una verità nella sua pregnanza. Va bene? Ecco, per fare un esempio, quello che Leopardi lo esprime in una strofa, Ungaretti lo esprime con una parola. Quindi, frantumazione o frammentazione della metrica e della sintassi è quasi sparizione della punteggiatura, perché non solo non c'è metrica, ma anche la sintassi è frantumata e non esiste punteggiatura, almeno nelle poesie dell'allegria, della prima raccolta, di quella del 31. Ma perché questo? Perché quella di Ungaretti è una poesia pura, è una poesia fatta di parole. Allora, diciamo che se la poesia di Montale è fatta di cose, cioè di correlativi oggettivi, la poesia di Ungaretti è fatta di parole. Perché la parola che, tra l'altro, è oscura, indecifrabile, carica di simboli, di significati pregnanti, la parola è lo strumento con cui il poeta rivela la verità. E allora la poesia è una illuminazione, è una epifania, è la rivelazione di una verità. Ecco, pensiamo alla poesia mattina, che contiene solo pochissime parole, mi illumino d'immenso. Ecco, mi illumino d'immenso perché il poeta, appunto, riceve questa rivelazione di una verità, appunto, di una verità profonda, arcana, sconosciuta, come se fosse una novella sibilla. Questa verità che poi il poeta fa conoscere ai lettori. Ma bene, il poeta è un sacerdote della parola. Ricordatevi, Rimbò che parlava di poeta leggente, no? Ma perché il porto sevolto? Perché? Perché ad Alessandria d'Egitto Ungaretti aveva sentito che esisteva una antica Alessandria, addirittura forse, diciamo, antecedente all'Alessandria d'Egitto, fondata da Alessandro Magno. Un'antica Alessandria con, diciamo, un porto, che però era sprofondata nel mare, come una specie di Atlantide, quindi come una città sepolta. Ecco, e praticamente alcuni archeologi cercavano questa antica Alessandria, quindi questo porto sepolto. Ora, per riportare alla luce questo porto sepolto, dovevano immergersi negli abissi del mare. Giusto? Ecco, la stessa cosa. Il poeta, per scoprire questa verità, deve immergersi nell'abisso della propria anima. Ecco, deve immergersi nei silenzi della propria anima e tirare fuori questa verità, come un porto sepolto, ecco, e poi farla conoscere al lettore. Tra l'altro anche in cosa consiste questa verità che il poeta Ungaretti ha cercato per tutta la vita e che, diciamo, è presente in tutte le sue raccolte poetiche. C'è in Ungaretti proprio la ricerca costante di una purezza edenica, cioè di una purezza, di un'innocenza perduta dell'uomo, che, diciamo, è l'innocenza, la purezza di un paradiso perduto. Quindi c'è l'attesa di una paringenesi, cioè di una purificazione, che porti a riscoprire questa verità e questa, diciamo, identità perduta. Quindi diciamo che la sua poesia ha anche un valore metafisico, religioso. Cioè scoprire questa verità diventa anche un'esperienza mistica per il poeta, come il mistico che esce fuori dalla mente, si avvicina a Dio e quindi scopre questa verità. E allora proprio perché è un'esperienza mistica, la parola, alla fine, che esprime questa verità non la può spiegare completamente. Ecco perché questa parola è oscura, è indecifrabile, perché la verità è anche ineffabile. Ricordatevi quello che dice Dante riguardo al divino, soprattutto il divino che vede nel paradiso. Anche in quel caso, quello che rimane a Dante del divino è solo un'ombra. Ecco, quello che rimane al poeta della verità dopo che l'ha scoperta è qualcosa di oscuro, di indecifrabile, di ineffabile. Quindi gli resta solo un'ombra di questa verità. Ecco perché Ungaretti si esprime per simboli, e adesso abbiamo detto che il suo idolo era Malarmè, e si esprime per analogie, per analogie molto ardite. Naturalmente le analogie, accostando delle verità lontane, ecco, quindi le verità delle realtà lontane, degli oggetti lontani, ecco, fanno venire fuori questa verità nascosta. Però ripeto, questa verità nascosta è spesso ineffabile, perché non è facile esprimere con parole umane l'infinito.